caccia al piromane a cairate o lo stato prende coscienza che ci sono intere famiglie che vivono nel terrore perché insieme non riusciamo a dare loro risposta oppure come stato stiamo fallendo è il commento del sindaco paolo mazzucchelli che si rivolge alla stampa all'indomani dell'ennesimo principio di incendio registrato nelle case popolari di via san giacomo a bolladello nei giorni scorsi dopo una serie lunghissima di incidenti analoghi una persona è stata denunciata per il sindaco però non è finita ci sono persone che non dormono la notte senza sonniferi va avanti mazzucchelli alzo i toni e chiedo formalmente la convocazione di un tavolo con il coordinamento della prefettura perché lo stato è schiavo delle sue leggi se permette a una persona di tenere in scacco intere famiglie grazie a tutti grazie a tutti